benvenuti alla sessione di lorenzo ciao sabrina ciao ti accompagno ti connetti a lui conto da 5 a 1 e ti connetti a lorenzo profondamente 1 2 3 quattro 5 lo vedo in una vita parallela barra passata che fa scalando la montagna lo vedo con dei picconi proprio che appicca una montagna sta scalando questa montagna è un uomo un ragazzo giovane primo che paese tibet lorenzo perché ti mostra questa vita lui dice ho fatto la domanda alla sua ps come se lui vuole mostrare che in questa vita è riuscito ad arrivare sulla cima quindi ha fatto una un qualcosa dove ha riuscito a concludere quello che desiderava quindi si era posto l'obiettivo di scalare questa montagna e ci è arrivato me la mostra come per dire io posso mi sta dicendo questo perché serve a lui ok lorenzo interferito allora vedo due cose la prima vedo subito 3 dl e poi se mi innalzo e all'interno della sua casa ci sono sì comunque vedo anche l'interferenza e delle altre persone che convivono con lui la moglie i figli però in particolare 3 dl interferiscono con lui o direi dove vengono chi è dl ci sono state delle credenze in passato che lui ha avuto non direttamente cattoliche ma comunque ha creduto in qualcosa qualcosa di al di fuori di se stesso quindi automaticamente comunque loro si attaccano nel momento in cui la persona attribuisce all'esterno il fatto di poter stare bene come posso dire e quindi è come se accetta interferenza tra virgolette religiosa qualsiasi religione esso sia indifferente lo vedo o altre entità e teori che ora c'è un drago dietro di lui un drago di quelli che il drago non rettile popo drago con le ali piccoline poi ci sono due mantidi e poi direttamente vedo l'aquila senza un'ala e su su vedo sempre zeus seduto sul trono poi vedo l non so ho visto questa scena vedo delle bam c'è dietro l'aquila accanto all'aquila visto le mantidi accanto all'aquila ho visto due bambole bambole di pezza non so perché abbiamo chiamato entità e darico ho visto queste due bambolette un molto interessante mai vista come sono prendere un portale davanti a te analizzare ma sono entità che cercano di confondermi perché in realtà quando sono prese ora si presentano come bambolette di pezza non posso dire però dentro sono piene ci sono dei spillini su queste bambole però quando le ho prese ho chiesto di dimostrarsi del vero quello che sono sono visto dei biondi dietro ok sembrano delle bambolette delle bambole voodoo parlato di spilli hanno a che fare con la morte di due conoscenti di lorenzo morti per una genera quello che vedo sì perché loro hanno comunque come posso dire non sapevano non sapevano schermarsi quindi evidentemente sì posso dire il tuo paese sì sono dice beh l'energia che arriva da lì la sento comunque ci sta qualcosa che si porta all'interno anche mentale come posso dire c'è un energia lì che appartiene a questo tipo di situazione è inevitabile questo quello che vedo ok brasile magia nera andiamo in brasile chiamiamo la sorella ed il cognato morti per magia nera non scorsi troppo con i dettagli ma chiamali si presentano sono dentro due gabbie io li vedo un uomo una donna una donna con i capelli castani un po mossi lunghi mi si presenta e un altro uomo il marito credo che sono all'interno di delle gabbie come se sono rimasti cioè come se quello che è stato fatto continua non finisce quando anche dopo lo stacco dal corpo fisico e li vedo dentro mi si presentano c'è intorno vedo anche delle favelas delle mi viene questo favelas lì ha fatto la magia nera e nelle favelas si invidia a una strega c'è una strega è una persona insomma che fa queste cose la stessa per tutte e due si invidia usa la bambola via la bambolina quello che mi arriva subito invidia come se fosse un discorso di invidia cioè come se loro sono riusciti in qualcosa è stato chiesto però non è lei lei è c'è questa persona che vedo lì è una tramite è stato chiesto non è lei direttamente lei ha fatto è stato chiesto questo lavoro e qualcuno dato lì ha chiesto ha pagato quanto ha pagato guarda quanto ha pagato anche se non conosci la moneta tra migliorati l'indirizzo mila vedo 15 mila cioè in euro in euro vedo 15.000 tutte e due sì lo chiedo a lorenzo mi fai sì o no con la terra ma sono morti insieme sono hanno avuto un problema insieme in due mesi e li vedo vicini molto bene ok molto ravvicinati in entrambi i casi ok andiamo alla prima bambola voodoo creata nella storia dell'uomo di tutti i tempi e di tutte le linee temporali la prima bambola voodoo di getto benvenuto su meri ok vediamo lì che succede come si chiama il dio sole quello che chiamano il dio sole rama 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 qualcosa non conosco bene magari l'igizia non mi sumeri vedi un falco con un cerchio sulla testa rossa o si non si fa c'è la la fisionomia dell'avviso dal palco e sopra si qui dirò egizi però è che hanno interferito su questa cosa però lo vedo prima prima degli egizi ok che che succede chi è che si inventa questa riproduzione di un uomo o una donna viene rampa è una donna e una donna è una donna umana che come se questa donna che vedo vedo una donna con dei capelli lunghi neri con una tunica fatta di pelle e all'interno di una grotta e quello che vedo è questo la scena che vedo è che mi fa sentire una forte invidia verso qualcuno qualcosa e questa donna che si gira verso il sole la vedo così che comunque dice emette una forte invidia ed è come se in quel momento si crea una connessione con questa entità che vedo il dio egizio lo so dio con questa testa da falco e accade la connessione quindi è come se gli viene da cia tramite questa persona questa donna e viene dato questo questa possibilità questo potere si tra virgolette cia una bamboletta di pezza una bambola di pezza sono dei quello che vedo che lei fa dei all'inizio all'inizio proprio prende come dei pezzi di legno all'inizio proprio l'inizio e lì quindi li fa come una persona che alla persona per il quale lei aveva una forte invidia dare un'altra donna che l'aveva portato via un uomo e praticamente lei mette delle foglie sopra questa fa che mi sono un bastoncino per la testa e non riempie lo ricopre di una foglia poi fa due bastoni laterali per le braccia e le ricopie di foglia poi c'è il tronco e poi i piedi c'è le gambe le ricopie di foglia e poi prende dei spini di di alcune piante non so se sono tipo cane si inizia a fare questa pratica e da lì si crea questa forte energia perché le foglie per renderla più vedo come se fosse per renderla più viva sì esatto perché il bastone in sé per sé sì però non è invece con la foglia è più energeticamente si vivo verrà noi prima dobbiamo dietro cristo 3 4 5 c'è 600 se ci erano di questo ok e dove siamo asia asia viene va bene questa donna che ha fatto il primo rito voodoo a una parte subito aveva una parte seminale io vedo se l'analizzo dall'esterno come se vede una piccola pallina ma piccola proprio una pallina grande quanto non lo so un piccolo melone piccolino e poi vedo tutta parte eterica tutto spirito come sia una piccola non sviluppata si ok la strega che ha fatto il rito alla sorella e cognato a una parte sull'unale sì sempre anche a trega evita questa qua eviva se si è cattiva hai detto evviva evviva sì ma prima è detto cattiva no 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 di no ok chiamiamo ad assistere alla sessione tutte le streghe che hanno fatto una volta anche sola o fanno continuamente per lavoro gratuitamente in solito lo fanno comunque per soldi fatture reti voodoo bamboline bambole voodoo compresa quella brasiliana e compresa la numero uno asiatica quella asiatica non c'è più ovviamente c'è in questa linea quella della brasiliana del legata alla sorella e al marito della sorella si evviva si mettono tutti i seduti in una fila orizzontale a gambe incrociate tutti cioè nel senso abbiamo capato tutti tutti e quelli della storia che hanno fatto questo lavoro qualcuno non si vuole presentare che dice che quello che stiamo usando l'interesse ok ci sono svariati identità una sola tipologia di entità dietro questi reti partiamo dalla brasiliana c'è di tutto vedo pose donne diavoli elohim biondi c'è di tutto di più come una grande congregazione non so è tutta una presa in giro cioè come posso dire si si collaborano in quel caso si passano le persone vedo che si passano le anime vedo questa scena che non mi piace niente vedo proprio le parti subliminali come se vengono nel momento in cui vengono prese tra virgolette perché non si sanno proteggere quindi non sanno schermarsi quindi succede come se delle parti energetiche vengono passate sballottate senza saperlo ma quelle di quelli che fanno il rito eh sì anche di quelli al quale comunque loro vogliono attaccare il senso ci sono volte che che non attaccano ma volte che comunque le lps non sanno quindi come se venissero ingannate come posso dire la quelle presenti lì sedute a gambe incrociate sono consapevole di questa cosa non la vedono per la prima volta no come se quel io ho visto subito una fila che quando tu mi ha detto di chiamarle ha visto subito una fila di parti come se fossero sono quelli che hanno più ps perché come se vedessi che questi stre che stregoni come posso dire hanno una ps dove comunque sono più più consapevoli di quello che fanno come se vedessi a file a seconda della consapevolezza poi dietro ci sono quelli che sanno ma non gliene frega niente più di tanto dietro ancora ci sono quelli che proprio dicono ok ma noi continuiamo perché abbiamo bisogno io vedo soldi vedo comunque affari vedo questo e vedo dei fatti fatti con l'entità potere vedo davanti ci sono quelli c'è una fila sola e ci sono quelli che più sanno quello che stanno facendo è che si comunque pongono una domanda come posso dire che potrebbero cambiare idea ecco se chiamiamo il padre di lorenzo si presenta un uomo con una pelle una carnagione un po più scura rispetto a lui e si presenta con delle pelli addosso e un bastone che si mostra così da lontano la sua vita precedente di pastore io vedo che in questa vita lui è stato anche così non so come se c'è stato un periodo della sua vita che è stato un po lo stato più bravo come posso dire prima di accompagnarlo dove sappiamo vuole dire qualcosa a lorenzo lui dice che non ho fatto in tempo a insegnargli delle cose che lui aveva scoperto che però è stato bravo a staccarsi da un determinato tipo di cultura mentale chi lorenzo col padre lorenzo lorenzo lo dice se è stato bravo a staccarti da alcune cose che io volevo insegnarti ma non ho fatto il tempo dice e poi a questo bastone e lo alza indica non so perché quando alza il bastone indica le favelas come indica questo villaggio dove ci sono questi questi attaccatori e lui c'è anche posto in particolare attaccato alla terra gli facciamo un regalo gli apriamo un portale ideale fatto apposta per disincarnati un acceleratore di consapevolezza un posto non tanto in cui loro vogliono andare con influenzati dalla loro vita passata appena trascorsa e così via e possono marcarlo oppure no ovviamente ma un posto dove marcando questo portale si acquisiscono tutte le informazioni della sessione delle sessioni fatte da me tutte quindi la relatività di una vita di un'altra di un altro ancora gli eventuali interferenze a cui lui è legato collegato attaccato tutto il relativo tutto sono tutti sono giochi e rimanere attaccato al gioco impedisce di andare parecchio avanti abbiamo dato un bastone di informazione che lui ammozzi chi lo mangia questo bastone di informazioni mi piace il bastone questo ama il bastone legno il legno se l'hai mangiato e come arrivo a questo punto vedo che lascia la fisionomia umana e mi mostra a rallentatore perché lo devo fermare perché in realtà tutto più veloce mi mostra la sua forma energetica in questo momento con lo sta non so perché si mostra a cuore a forma di cuore perché si innalza e mi porta lì mi fa vedere che cosa mostra formati dove sta andando però io lo sto seguendo perché come se lui mi sta richiedendo di guarda dove sto andando quindi si è staccato la fisionomia umana sui brividi e ma seguilo vai fino in fondo per vedere cosa c'è di là si mostra a cuore e poi si apre il nostro nostro che ormai è come se noi li aiutiamo ma loro lo fanno da sole però noi abbiamo grazie anno alla vibrazione a quello che è un aiuto no è esatto cioè diversa l'informazione adesso è più alta come posso dire quindi arriva in questo posto bellissimo dove si apre questo tunnel dorato che sembrano tutti i cristalli che girano girano per lui e lì si mostra a una forma di cuore ed è pronto ad andare c'è questo questa porta questa finestra quindi e lui adesso energia ok tutto quello che sta facendo è merito del figlio assolutamente sì non ci fosse stato il figlio che lo chiamava lui non lo faceva cosa gli vuole dire staccato dalla vita che hanno vissuto insieme a staccato senza staccato sì ma staccati da questa vita quindi hai fatto delle buone scelte ok va bene ma relativamente al ruolo pal per il figlio ora lì dove è relativo sono due parti subliminali una aiuta l'altra solamente sì quella aiutata cosa vuole dire finale lui dice io mi mostra cuore perché ti lascio un cuore un pensiero ok prima di salutarlo diciamo al papà di lorenzo di tendere una mano alla sorella e al cognato di lorenzo nel senso di mostrare loro tutto il processo a cui è stato sottoposto dove sta lui questa forma energetica forma di cuore che dal quale è come si escono due braccia energetiche e le dà due bastoni pieni di informazioni legno che lui dice nel legno c'è la vita il legno è vita l'albero è vita quindi le dà queste informazioni che deriva da noi che lui ha preso e la offre e loro la prendono entra all'interno delle loro io li vedo in queste due gabbi li vedevo prima poi se fossero in due prigioni entrano questi bastoni nelle prigioni loro li afferrano entrambi accade simultaneamente questa cosa e nel momento che loro li afferrano con la mano è come se le le prigioni si rompessero e loro vengono tirati su mi vengono tirati su e diventano mentre salgono afferrando il bastone che entra in loro entrambi nella donna con i capelli castani lunghi ricci e nel questo uomo cognato vanno su vanno su e lui dice venite qui perché qua ecco mi sceglierete veramente siete voi che come prendete la vera essenza di voi quindi vanno su va bene li ringraziamo li salutiamo tutti e tre se i due finali vogliono lasciare un messaggio rapidissimo non possono fare altro è come se sono già andati su chiudi quel portale e continuiamo con lorenzo vediamo la vibrazione di lorenzo in questo momento sa 35 miliardi lui che lui sta sentendo tutta sta io sento e lui sente la potenza di stare lì cioè lui ha è vero che noi stiamo qui però come se quando avviene un collegamento la persona percepisce questa potenza come posso di questo posto da quando partiva lorenzo 15 milioni milioni miliardi miliardi scusami 15 miliardi consapevole sempre accentuale adesso c'è tanto 157 equilibrio psp 158 60 e ok impianti c'è una cosa una lastra sulla schiena dal collo alla cervicale fino al cocci c'è più o meno e poi vedo dei collegamenti con l'es con l'acqua dal deltoide si chiama che passa dietro con che si collegano questa cosa sulla spina dorsali come fatta di che materiale di c'è qualcosa in grafene c'è qualcosa che gira nel corpo ma di chi di lorenzo quando mi ha detto grafene ho visto qualcosa di una una punta di matita ma allora tu ti sei no non si è divaccato tu vedi del grafene che si muove io vedo quando maledetto ho visto una matitina ma che sai una punta di matita piccolissima che va la messa viene chiamata con questa cosa di carbonio pedo carbonio poi vedo una cosa fa con un pianto collegata a quello quindi anche per quello si è di piantoci la messa il drago l'amantide zeus o ma io di a lei non mettono noi e vedo una d'action questa roba è stata messa io a me piani sciechimi non so c'è quando di bocca qualcosa dall'esterno corrette abitraccio non sono negli ultimi tre mesi sono di tre mesi sono diminuite a una barra due al mese mentre fino a tre quattro mesi fa come se tre quattro mesi fa e lui sia successo io vedo come lui mi sta facendo vedere questa scena come se lui sale su dei scalini come se avesse fatto dei salti di consapevolezza e automaticamente le abduction diminuiscono quella volta che dal bambino era picchiato dalla mamma in seguito dalla mamma è scappato è scappato in un campo di ass ok ho visto già la prima ricorda l'agrici se l'ha visti proprio lui non ricorda lui l'ha visti perché a bimbo quindi quando sia più piccolini e come se sia più puliti e non ci sono i filtri mentali no come posso dire quindi come se lui li ha visti proprio lui ha visto questi esseri con ste braccia lunghe tipo ci assomigliano ai punti c'è una connessione tra le abduction e i campi seminati a piante di mais i finti è come se loro vogliono dare vogliono far credere di dare dei messaggi c'è un modo per dire devono dircelo in qualche maniera perché il gioco è vero che un gioco ma comunque la vengono dati dei messaggi come qual è il messaggio che ti rapisco in un campo di mais tu sei parlando di rapimenti se non dei corsi il collo del grano entra a me ne sono venuti nel senso è comunque come se anche quelli fossero creati da loro per dare dei per dire noi siamo stati qua come posso dire sono dei messaggi ma il campo dei gradi mais che messaggio è come un'idea di per associare la basso nel campo di mais e quindi agli alieni in modo tale che boh in qualche modo qualcuno quando attraverso un campo di mais si faccia prendere dalla paura è una modalità però in realtà non è niente come per dire cioè non è una cosa è un messaggio come per dire sì siamo stati prima in questa action la madre è stata influenzata a picchiarlo fallo capa scappare da chi dall'entità io lorenzo io mi vedo di sono della mamma va bene causa sottorica della sofferenza per esempio questa bambino di violenza domestica vedono di primo diciamo istinto che però non accettazione non accettazione di alcune cose lui vede delle cose ma è come se vuole far finta di non vederle lui ha visto delle cose non è la prima volta che lui ricorda lui ha del lui pensa se non delle ricorde ricordi lui anche dei sogni lucidi io vedo non ma non sono sogni cioè lui vede vivete proprio è una non accettazione cioè come se c'è una parte di sé che dice non è possibile questo mondo non può essere così e quindi mi potrebbe anche fare quello che stai facendo tu adesso ma non l'accetta aspetta quello che vede o potrebbe vedere questa di poter vedere e non è come posso si fa prendere troppo dal punto di vista emotivo quindi si lascia troppo trascinare quindi cade nella sofferenza e da lì e anche io vedo che nel momento in cui lui a questo momento di caduta come posso dire ovviamente si apre a non riesce a rimanere neutro dovrebbero c'è da quello che vedo io qui è quello che comunque mi fa vedere lei lui lei la sua parte la sua ps riuscire a essere un po più neutro questa è la realtà causa sottorica della gastrite edl i momenti di tristezza di sofferenza lui ci sono dei momenti che va giù giù e in trafisi dell'epilessia o degli attacchi epilettici che non ha più abduction meno d'action e mantidi causa esoterica dei problemi di soldi che si analizziamo vediamo solo così la domanda è questa io vedo un collegamento con il discorso del suo paese nativo quando mi ha detto causa esoterica del problema in problematica di soldi lo vedo legato a quel brasilia perché c'è proprio qualcosa sulla di lui e sulla sua sul paese o su lui no no su lui su lui come se ci fosse qualcosa legato a un discorso non so se di società di mente mentale però c'è legato al paese nativo mentale quindi come se lui fosse cresciuto in una certa maniera e non ripetesse non riuscisse a a vedere l'appiglio dell'abbondanza come posso dire ricordiamo che il brasile nasce molto ricco di risorse soltanto o alcuni fatti diciamo storici l'hanno portato ha portato forse questa forma mentis da vedere la mente collettiva e vediamo anche se lo è collegato a qualche entità mentale in livello 3 io nel mentre mi parlavi perché adesso ormai accade tutto simultaneamente vedo non so mi mostra un bambino che corre dentro queste favelas non so se lui o lui un'altra vita parallela non lo so e vedo che comunque va con delle con altri bimbi e delle persone adulte arco a prendere l'acqua nebozzi quindi il collegamento del discorso della dei soldi come se lì mi ha fatto vedere questa scena qua non lo so il collegamento scusami è andata giusta con il collegamento del discorso del dei problemi economici quando ne parlavamo vai al discorso mente collettiva mi hai chiesto e ho visto un bambino che va con altri bambini insieme a ok ma cercaria perché l'acqua nei corsi è come se lui ha nella sua mente nella sua del suo ricordo di ps nel suo in questa in questa vita abbia questo questo collegamento col discorso della tra virgolette povertà c'è difficoltà a vivere difficoltà l'acqua è vitale no nel senso sentendo questo è come se possiamo non mangiare ma no ma possiamo sopravvivere ma non si può non bene lui dice quindi è come se mi vuole far vedere che lui va a cercare l'acqua quindi va a cercare la fonte principale per vivere quindi è difficile come se fosse un discorso una sinapsi della sua mente questa cosa qui causa esoterica dei soldi persi che prima una consistente somma prestata mai restituita io quello che mi è arrivato subito è come se la via se mi dice una lezione tu non hai capito cosa la ps è stata la ps è come se lui non è come se lui fosse allora che come se lui ha fatto una cosa che ovviamente a fin di bene pensava giustamente positivamente ma non ha pensato a se stesso quindi è come se la ps gli sta dicendo è una lezione perché devi comprendere che nelle vite che tu fai che stai facendo gli altri se vogliono ti stanno accanto e seguono il tuo esempio ma se tu che non stai crescendo dedicando questa cosa agli altri quindi è come se ti stai togliendo dell'energia e tanto comunque anche se quei soldi sono stati prestati io vedo che a chi li ha prestati non non ha risolto il problema momentaneo ma non è non è che ha risolto la vita perché questa persona in ogni caso presto un prestito non è un regalo assolutamente apprestati alla persona sbagliata che non aveva nessuna intenzione di restituirli quindi di apria proprio fatto rubare dei soldi questa è la lezione ok la causa dottorica dell'incidente d'auto sta vedere male un rettilineo testa e coda le persone in auto insieme a lui non si fanno nulla l'auto da buttare quindi il valore dell'automobile è completamente perso dell'esposizione dei punti hai detto più o meno l'anno giusto perché lo vedevi 92 92 si quello che mi fa vedere come se fosse sempre un discorso è come un sveglia cioè come se mi fa vedere come se la sua ps che cerca in maniera drastica di comunicare con lui quindi non succede nulla però io ti sto dicendo non hai cioè sai non hai compreso che la tua attenzione non è su di te ancora metti più attenzione su di me lei sta dicendo quindi è come un incidente è una cosa che comunque ti sciocca no e quindi è come se fosse sempre creato da 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 lei c'è da lei io la vedo così questo è quello che bella è quel sito di vendita di oggetti in cui lui non pensa di dover pagare delle tasse e si prende delle molte ma da qua vedo diverse cose intanto è come se vedessi edl che comunque lo spingono a fare dei tra virgolette cioè ne io vedo dei momenti di disperazione non so se si possono chiamare così insomma momenti di bassa vibrazione momenti di sconforto dove comunque parlano parlano e lo è come se come il parlano a lui orecchio esatto l'orecchio destro in particolare come se lo spingono a fare dei delle 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 azioni che lo portano poi avere delle problematiche però io vedo sempre la sua ps e la sua ps è tanto attiva in questo senso nel senso è come se non hai capito ok quindi ti faccio perdere i soldi un prestito che non ti viene restituito e problematiche con il lavora su questo c'è lei dello sta dicendo questo è io vedo questo concetto ok solo dal di fuori la moglie interferita colpa della religione cattolica cui lei è molto legata solamente si ok edo angeli lorenzo ha fatto due sessioni è andata un po meglio dopo ma per colpa diciamo del fatto che vive con la moglie che è interferita e che è estremamente religiosa ha detto che più o meno le cose poi non sono state così migliori dopo un po di tempo che è successo che non è imparato a schermarsi come insegniamo a lorenzo sia adesso qui in eterico sia parlando di skype ascoltando con carne e ossa a schermarsi come ti scherzi tu esatto è quello che infatti io faccio questo ovviamente anche io come tutti noi abbiamo usciamo andiamo al lavoro abbiamo una vita viviamo altre persone che ognuno ha il suo percorso ma le cose sono diverse il primo è un pensiero dove io penso questo il mio percorso quello è il tuo quindi consapevolmente dico io non interferisco con te e tu non interferisci con me quindi tu hai il tuo percorso quindi consapevolmente non accetto a livello mentale nessun tipo di interferenza questo è il primo discorso la consapevolezza che non lo voglio primo quindi già accadere con rispetto assolutamente si nel senso io posso cercare di dare delle informazioni poi se la persona accanto a me le vuole prendere bene altrimenti il problema il suono quindi e rispetto il tuo percorso quindi consapevolezza di questo seconda cosa io diciamo di solito la mattina e la sera immagino che dal mio petto da dentro di me esce una luce una vibrazione quindi la mia energia quindi è tutta cosa cosa che nasce da dentro di me che esce dal mio petto davanti dietro la schiena mi scherma fa una palla energetica poi immagino come un compasso che gira intorno a me che mi protegge immagino questa mia luminosità e consapevolmente come si noi da un comando però dico questa è la mia energia questo il mio campo energetico da qui niente entra e niente esce io non accetto nulla e quando cammino e diciamo per strada o comunque sto davanti alla gente che sento gli attacchi io come se immagino che rimbalzano che ci sono tipo mosche cadono giù quindi non possono interferirmi dov'è poi il segreto non dico che io non mi arrabbio mai o che comunque insomma però cerco di no io mi rendo conto di quando dall'altra parte non so un marino una persona un collega mi dice qualcosa per provocarmi liberando conto che c'è vedi l'entità del collega non percepire provoca proprio io lo vedo pettino progettato esatto esatto e quindi io le vedi adesso li vedo prima percepivo in generale sti dispettini sono più edl o più rettili o più qualcos'altro tutto 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 dipende dalla persona che davanti va bene molto 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 interessante la persona che ha fatto le due sessioni a lorenzo è interferita pulita lei ad angeli bene quindi il fatto che gli angeli io non so chi sia non so chi avrà quando me l'hai detto visto quasi consapevolmente di lui ma ok quindi la domanda relativa alle pleiadi alla sua missione e alla stella maia in flui arriva alla lui ha avuto una vita nelle pleiadi se lo vedevo quando quando lui me lo dirà un clone veramente io lo vedevo già quando lui parlavo è un clone scusami niente come se un ibrido c'è un ibrido biondo che ha vissuto lì in una una parte di ps ci sta ok il passato il passato flash che si è appena stato in skype perché c'è stato questo flash è questo questi qua questi play play adiani utilizzano loro sono i portatori dicono luce 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 non è certo sono contenti che le analizziamo naso stufi ma pure noi oppure se sono pure io stufo dei biondi con gli occhi azzurri c'erano di sta gente qua guarda non ne voglio neanche parlare l'anno la maglia esiste costellazione stanno costellazione la sua missione esiste come la sua missione esiste edl è stato sciamano in passato è aiutato le persone no quel monte lì ecco ok allora quando l'abbiamo chiamato all'inizio lui mi ha mostrato che scalava questa montagna tibet poi mi mostra che arriva lassù e lo vedo collegato che fa delle cose con energie però non sa bene quello che sta facendo quindi si l'ho avuto tibet ok adesso ho capito sì era quella che causa sotterega dalla cuffia ne all'ora chiudere stl questo in ogni caso sia se scrive se si lavora se si aveva letto perché c'è una parte di lui che è come se lo cerca io vedo c'è una parte di lui che cerca le risposte all'esterno nel momento in cui non ti schermi questa situazione attuale ma lui la cambierà ok però quello che adesso è o che era non ti schermi non lo sai cerchi risposte eccolo lì arriva le dl di turno cioè quelle pll quindi lui è lì come se vedo questo dl che sta lì ok dai farà una domanda tanto lo so e arriva cade due volte sullo stesso braccio destro braccio spalla e questo è successo una prima volta è molto in passato e poi subito un po dopo e di fatto non è mai guarito c'è una causa esoterica una spina una spinta ma come se viene spinto è strano perché vedo la mano c'è faccia difficoltà come se vedo la mano di una mantide cioè vedo il braccio di una mantide posso dire fatto proprio amanti de no ma insettoide come se viene spinto e questi due questi eventi li vedo in momenti di difficoltà suo interiore quindi è come un gioco c'è nel senso per loro non per lui ovviamente e come vediamo fino a che punto tanto già sta andando giù io ti spingo ancora giù come si chiama questa mantide chiamiamola chiamola verità e se lo scusa ufa rufa rufa ok ed è sempre lei che spinge le due volte c'è una causa esoterica al fatto che lorenzo fa questo lavoro che fa in cui tra l'altro bravo ma nell'ambito diciamo un ambito tecnologico molto avanzato che un militare adesso vedo dei militari mentre gli chiede che vedo lui con l'azienda con l'azienda non ho legato all'azienda sono c'è qualcosa di militari militari ma c'entra con lui anche lui non cioè lui no nel senso lui è usano usato comunque lui ha una mente brillante nel senso lui è un ricercatore vuole scoprire gli piace quello che fa io vedo proprio che lui piace quello che fa lui fa queste ricerche e comunque porta avanti come se fosse un progetto più grande lui una pedina che può essere per crida positivo da una parte per la sua crescita a livello mentale di scoperte che però in realtà dietro l'azienda c'è qualcos'altro non so ma va bene che lascia che altro cosa vuole fare le dicevi vorrei adesso mi sta dicendo adesso vedo lui non lo vedo più con quando scala la montagna ma vedo lui adesso che toglie gli occhiali e dice io voglio schermarmi ha bisogno di essere pulito devo fare tante cose mi sento bloccato bisogno di andare andiamo però chiami ad assistere alla sessione 2020 protagonisti protagonisti della sua storia a una la moglie e uno è quello che ha fatto le sessioni ma la moglie ci guarda la gialla l'inizio ma la moglie sta già lì da primo quando l'abbiamo nominata nel momento ancora nominata ora io vedo che c'è un comunque alla interferenza ci sta e siamo d'accordo perché viviamo in un mondo interferito quindi però quando lui parlava della moglie lei arrivata come se ti da sua ps comunque anche se interferire ok bla bla si è sentita chiamata c'è un legame tra queste due anime comunque lei è lì già da un po sono vari nel fini io vedo che c'è un buon buona energia tra di loro se solo che lei è legata alla religione mino il percorso lei ancora non è il suo percorso dicevamo prima rispetto che consapevolezza lei 75 ok i figli si presentano il l'ipnologo i figli si presentano per mano maschi e femmina qui sulla destra l'ipnologo no c'è girato di spalle dice fate un po quello che volete no no si è girato di spalle può anche andassero a me lavamo la voodoo sono lì mentre in teatro seduti va bene allora il protagonista dello spettacolo adesso e lorenzo andiamo al cluster quante vite precedenti a parallele a lorenzo 4.585 mazza nel 4500 vite anno e lo sperimentatore hanno tutti degli contratti contratti che lui ha stabilito con entità eteriche mentali per esempio la tale del terzo livello questa vita francamente non ricordo in cosa incideva soliti soldi in casi le può eliminare questi contratti perché ormai il gioco l'ha fatto e cosa era capite il salvadanaio della dell'esperienza e della consapevolezza l'ha riempito e siamo tutti stanchi e quindi anche di stanco di fare queste vite subito e subito e subito e mi mostra una cassaforte come se fosse una grande cassaforte con una porta l'apre con una chiave l'apre e dentro ci sono tutti questi contratti che lui prende e vuole buttare via però erano chiesi dentro questa cassa l'apre aperta quando li ha buttati me lo dici e se vuole si butta anche la cassafora cassaforte in classio si sentono alattano la vada è strano nel senso che lo vedo credo una sedia grande l'uomo altezza uomo come posso dire una sedia normale poi vedo un piccolissimo avadar piccolo piccolo in piedi che non c'è che non arriva al computer che cosa buffa tutte le volte diverso con tutte e tre cioè a un delipuziano un pazzino che non arriva di fatto così non arriva computer quindi ha capito che è inutile è diventato così quando una settimana fa una settimana fa perché è come a livello se poi vedo sempre questa sovrapposizione in realtà è già caduto cioè va bene qui è tutto simultaneo comunque come parlandone di noi fermo il tempo fermo faccio il fotogramma una settimana fa è come se lui abbia iniziato come posso dire sì esatto un concatenamento per arrivare qui e per conto abbia volutamente come se avesse scritto io voglio essere pulito e quindi automaticamente la vada non ha più scena molto in cui tu decidi non si può più scrivere è inutile se tu se tu che decidi se tu la padrone della tua vita quindi è diventato piccolino l'ha fatto diventare lui piccolino in maniera tale che non poteva più scrivere quindi come per dire tanto non ha più senso cosa fa l'avatar lui lo prende lorenzo prende questo pazzettino lo mette nella mano e lo lancia in un buco definitivo a forma di mare cioè io vedo il mare mi mostra il mare qui anche lui in un buco definitivo che me lo mostra mi dice guarda io nel buco definitivo ci metto il mare come se fosse dell'acqua acqua che bambina ok entità mentali esiste l'entità mentale esiste ancora buttato l'avatar no l'emozionale pulito allora in questo momento lui ha vedo lui che fa che si pulisce a questo colpa così con la mano sinistra poi gira su se stesso e lancia i via gli ultimi residui perché già ci siamo puliti prima cioè nel mentira è come se mentre analizziamo lui si rende cosa si è reso conto della sua tristezza di quello che abbiamo analizzato prima si fosse pulito cioè la consapevolezza automaticamente come se lo facesse prendere atto e pulire in quel momento quindi adesso vedo come che fa questo però in realtà come se ne avessi già fatto bene mentre lo analizzavamo insieme con lui ecco vibrazione 35 miliardi ancora così 75 percentuali di consapevolezza il 220 psp 57 ps vite precedenti 3885 ci sono ancora entità eteriche impianti cloni o ibridi ad action e entità mentali no ok la vita in tibet c'è ok la sua tendenza siccome lui è collegato alla mente collettiva sezione brasile quindi ogni paese ha una cultura forma mentis io sono italiano penso in certo modo certe cose sia sono brasiliano preso in un certo modo certe cose è così quindi è come se questo questa nuvolona della mente collettiva avesse delle porzioni con le prozioni a sottoporzioni con le città con i quartieri con le case quindi ognuno ha poi una mente con una forma mentis tipica della propria famiglia nella mia famiglia si pensa sempre che i mari sono da rispettare che gli animali sono da maltrattare che il cibo importante che il cibo non è importante che per mangiare quello che vuoi che è importante mangiare la vita lorenzo in questo passaggio finale ha fatto una pulizia diciamo di questa connessione in funzione noi mi sta dicendo come mentre parli perché poi come sempre è tutto contemporaneo è come se mi sta facendo vedere che ciò che importa per lui e l'acqua dice e che comunque ha pulito questa parte come se avesse pulito una parte di sinapsi di collegamento no in questo quello che ha vissuto è come se avesse è come se lui durante la sessione in questa sessione si fosse innalzato e si fosse visto da fuori e avesse compreso io vedo che ha influito anche dove siamo andati con le persone che disincarnate che lui ha voluto chiamare lui era lì cioè lui era lì con me quando quando ci hanno portato lì come posso dire lui ha visto cioè non solo lui ha proprio ha percepito quindi è come se facendo tutti tutto questo processo di che io parlo ma lui viene con me quindi la sua parte il suo la sua essenza con me andiamo insieme siamo tutti lì quindi lui è come se facendo questo vedesse dal dal di fuori la relatività di tutto quindi sì che messaggio vuole lasciarsi a proposito di tutto non a questo proposito lui dice che deve scrivere perché scrivendo mette per iscritto la sua parte subliminale dice se tu scrivi scrivi me metti su carta quello che io cerco di dirti quando hai dei momenti di ispirazione prendi un pezzo di carta e scrivi perché in realtà sono io che ti sto lanciando dei messaggi io ti lancio anche delle frasi piccole e brevi che ti aiutano giorno per giorno ci sono volte che tu fai domande ma adesso hai capito che che le risposte sono dentro di noi ti schermerai hai imparato e cerca le risposte a me chiedile a me domandali a me quando senti un input che il tuo braccio vuole gettare parole su carta sono io che ti do dei consigli questo sarà il nostro metodo di comunicazione e poi a distanza di due tre settimane e un mese rileggi quello che ci siamo scritti e detti perché non subito capirai quello che io ti sto dicendo a volte lo capisci dopo ti servirà le leggi scrivi la storia di te stesso e rileggia perché quando la rileggerai saranno i momenti in cui ti servirà quello che abbiamo scritto insieme basta come lo vedi sabrina abbracciata un albero si mostra così vedo lui con un canto un albero ok quindi dove di bene sei pronto a tornare mi piace stare qua ok disconnettiti da tutto e tutti